Arriverà nei prossimi giorni nella nostra regione una consegna straordinaria di 8.000 dosi di vaccini ad mRNA, cioè quelli di Pfizer e Moderna. Un numero che permetterà di compensare le carenze che si sono create dopo lo stop all'utilizzo di AstraZeneca, anche per le seconde dosi, sugli under 60 da parte delle autorità nazionali. Sulla campagna però pesano le rinunce da parte degli under 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca e che ora non vogliono un vaccino diverso per il richiamo. Ci sono diversi under 60 che vogliono terminare la vaccinazione con lo stesso vaccino, cioè non amano lo switch. E' chiaro che su questo noi non possiamo fare niente perché la circolare è chiara e il sistema poste non permette di utilizzare più sotto gli under 60 il vaccino AstraZeneca. Per cui bisogna fare lo switch. Però su questo io vorrei tranquillizzare un po' anche i cittadini. Ora il sistema dello switch, quindi di cambiare vaccino per la seconda dose, è stato già sperimentato in altre nazioni a livello europeo. E quindi insomma non ci sono stati problemi. Quindi direi che l'importante è vaccinarsi. Dobbiamo guardare e strizzare un occhio all'Inghilterra dove hanno vaccinato tutti con una sola dose. Adesso sia la variante inglese che la variante delta sta creando diversi problemi. Quindi la vaccinazione va completata, va fatta sia la prima che la seconda dose. Insomma ecco l'importante è lo stimolo da un punto di vista strettamente tecnico che si dà all'organismo che reagisce dopo la prima e dopo la seconda dose. Quindi l'invito è a riprendere la vaccinazione, a seguire quelle che sono le indicazioni anche di chi da un punto di vista scientifico ci dà questi dati. Io non sono d'accordo con il presidente De Luca per quello che conta il mio pensiero. Però insomma se c'è un comitato tecnico scientifico va ascoltato e poi va seguito. Insomma nel senso che ha le competenze per dare i dati e per dare poi le indicazioni. Ma verranno messe in coda le persone che non vorranno fare lo switch? Verranno messe in coda come sempre, è chiaro che però perdono la finestra vaccinale. Cioè se tu vai oltre quella che è la dodicesima settimana e ti vaccini alla ventesima settimana hai perso quello che era la finestra vaccinale per il richiamo. Per cui anche se vieni messo in coda, ma mettere in coda vuol dire non essere più vaccinato all'interno di quel periodo che magari può slittare anche di una settimana, non succede niente. Ma se poi vai in coda e lo fai ad agosto è chiaro che a quel punto hai perso quello che è tutto lo schema vaccinale. Per cui insomma la vaccinata va fatta adesso e nei tempi previsti.